bene ragazzi missione raccoglie dei mili fluttuanti a castello corallo ci troviamo alle spalle ci troviamo sabbi sudate per entrare verso castello corallo quindi la posizione attuale è questa ok ora vi faccio vedere dove sono situati gli anelli allora entrando da sabbie verso castello corallo ci dirigiamo subito verso primo anello che si trova in questa torretta qua come vedete passiamo al secondo secondo si trova esattamente alla punta del castello centrale esattamente qui tranquillo non ti voglio fare niente il terzo si trova qui sulla torretta laterale come vedete e l'ultimo anello si trova praticamente qui per questa missione è tutto ragazzi spero che vi sia stato utile bella raga alla prossima